Per la parrocchia, signori, se avete materiale da riciclare, ferro, cartone, materiali riciclaboli, plastica, per la parrocchia, materiale da riciclare, ferro, cartone, plastica... Giovanni, scusami, sei in galleria? Sei in galleria, dai, ti ha finito il credito. Sei già tutto? Eh certo, sono il tuo commercialista e non ti ha finito il suo cacqueo. Come sono messo? Male, 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 male. Bastava anche una volta sola, eh? Beh, volevo che io capissi bene. Beh, e adesso? Adesso fai come tutti, ti trovi un lavoro. Eh sì, e come? Lo cerchi? Anzi, guarda, ho appena comprato una malga e un po' di mucche qua in montagna, ho fatto un affare. Sti malgari non capisci niente. Vuoi venire a darmi la mano? Sì, tu hai mucche. Caro mio, qua, per andare avanti bisogna tornare indietro. Io un malgaro. Io sono Gualtiero Check-in e avrò la mia rivincita, hai capito? Auguri. Grazie. 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 Grazie per la visione!